E buongiorno e bentrovati dagli studi di Canale 81 Lazio, come sempre la nostra informazione in diretta di carattere regionale. Iniziamo da un incidente avvenuto sulla superstrada dell'Iri dopo l'uscita di Balsorano, provincia dell'Aquila, al chilometro 40 della strada statale nel comune di Sora, in provincia di Frosinone. Hanno perso la vita due fratelli di Balsorano e sono rimaste ferite altre due persone, un uomo e una donna, che viaggiavano su un furgone in senso di marcia opposto. I feriti sono stati trasportati nell'ospedale civile di Sora dai sanitari del 118. Le vittime sono due fratelli di Balsorano, di 27 e 42 anni. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per permettere di effettuare rilievi e rimuovere i mezzi coinvolti sul posto i vigili del fuoco del comando di Frosinone e il 118 i carabinieri della stazione di Sora. Tensioni a Roma ieri per la manifestazione nazionale dei movimenti di area anarchica organizzata per il pomeriggio di sabato. I partecipanti hanno iniziato a radunarsi intorno alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II, zona Esquilino, per dare poi vita a un corteo con destinazione San Giovanni, con deviazione verso il Pigneto. Circa 800 partecipanti, secondo fonti di polizia, si sono riunite in corteo, reggendo striscioni che invocano la libertà per Alfredo Cospito. Alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine quando i manifestanti hanno deviato in via Prenestina, lanciando bottiglie e accendendo petardi e fumogeni. Due giovani sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di droga che nascondevano in auto e a casa e di un ingente quantitativo di denaro contante. Si tratta di due ragazzi di 20 e 22 anni, di origini albanesi, finiti nella rete dei controlli della polizia a Gaeta. L'operazione da parte degli agenti del locale commissariato è scattata nella giornata di venerdì, nel corso della quale è stata anche segnalata alla Prefettura. Una ragazza ventenne per uso personale di sostanze stupefacenti. Un violentissimo incendio ha devastato lo storico emporio Venturi in piazza Pia D'Anzio. L'incendio si è sviluppato nelle prime ore della serata all'interno del locale. Le fiamme violentissime, i vigili del fuoco, hanno avuto difficoltà a domarle. Sul posto sono intervenute cinque squadre che si sono adoperate per cercare di domare l'incendio. I residenti degli appartamenti sovrastanti il negozio sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Sul posto anche le proprietarie che sono state colte da olieve malore. L'emporio Venturi era stato da poco ristrutturato ed era uno dei punti di riferimento storici del commercio anziate. Al momento sono ignote le cause che hanno alimentato le fiamme. Sono 30 i nuovi alfieri della Repubblica nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 16 ragazze e 14 ragazze. Insieme ai giovani premiati con targhe per azioni collettive verranno ricevuti dal capo dello Stato al Quirinale il prossimo 24 febbraio. Per la consegna degli attestati d'onore tra di loro anche due ragazzi di Latina Luigi Falconi classe 2003 non si è lasciato abbattere dalle sue difficoltà legate a un disturbo dello spettro autistico. Luigi è riuscito a trasformare i propri ostacoli comunicativi e relazionali in opportunità dimostrando a chi è stato vicino come le differenze non siano un disvalore ma una ricchezza. Il secondo ragazzo classe 2006 si chiama Riccardo Ianovski nato a Latina da una famiglia di origine ucraina. È stato profondamente segnato dallo scoppio della guerra. Riccardo si è sempre impegnato nella solidarietà e nell'accoglienza dei profughi provenienti dal territorio bellico. E chiudiamo con il calcio. Il Frosinone sbanca il Sinigaglia e continua la sua striscia di vittorie che continua da cinque turni. Una vittoria che arriva nel primo tempo con i gol di Mazzitelli con un gran tiro al volo e di caso con un colpo sotto su assist di Moro. Nel secondo tempo la gara si ferma intorno al ventitresimo con due tifosi del Como, i padroni di casa, che sono stati soccorsi dalle ambulanze. Gara che è ripresa dopo 22 minuti con nessun altro tipo di sussulto. Il Frosinone porta a casa tre punti d'oro portandosi sempre in vetta alla classifica a più undici sul Genoa secondo impegnato oggi sul campo del Parma. E concludiamo qui questa edizione con le ultime notizie regionali. Grazie per l'attenzione e vi aspetto per i nuovi aggiornamenti sempre su Canale 81.